Il Topolino numero 3491 presenta a sommario due storie particolarmente interessanti e tema in qualche mondo archeologico. La prima, Topolino e il tesoro del legionario, scritta da Francesco Artibani per i disegni di Giuseppe Zironi, ha il tema in maniera esplicita e proprio centrale nel suo sviluppo. La seconda, invece, è Zio Paperone e i vichinghi a Venezia, scritta da Knutnerum e Ariel de Midtun per i disegni di Giorgio Cavazzano, è in qualche modo la classica caccia al tesoro di Paperone, in questo caso accompagnato dai tre nipotini in veste da giovani marmotte. Però per quanto queste due siano storie interessanti per cui varrebbe comunque la pena spenderci qualcosa di più che una semplice eccitazione, non saranno però l'oggetto del video di quest'oggi. Perché, come vi avevo permesso nel video precedente all'interno della serie Disney Comics & Science, mi andrò ad occupare anche questa settimana di scacchi, visto che, almeno per chi voleva, c'era la possibilità di acquistare Topolino abbinato con il nuovo Topolibro dedicato proprio a questa meravigliosa disciplina sportiva o gioco che poi, in qualche modo, è lo stesso. Il Topolibro è in questione e, probabilmente, e in questo mi trovo d'accordo con Alain nella sua analisi video che vi lascio in descrizione, uno dei migliori, se non veramente il miglior Topolibro in assoluto tra quelli pubblicati, incluso quello dedicato al calcio, anche se in questo parere rientra in realtà soprattutto il fatto che preferisco di gran lunga gli scacchi al calcio. Il Topolibro è strutturato in questo modo. Abbiamo un'introduzione scritta da Neri Marco Re, un noto attore e doppiatore, peraltro uno dei miei preferiti. Tra l'altro, rientrando nel tema di questi video, è molto famosa la sua imitazione di Alberto Angela, a cui segue un manuale vero e proprio dedicato agli scacchi in cui le prime pagine sono dedicate alla storia degli scacchi. A tal proposito mi invito anche a recuperare il video precedente dove ho raccontato un po' di questa storia, mentre nella pagina successiva troviamo il manuale vero e proprio. Tra questa introduzione storica e il manuale vero e proprio si trova la storia Pippo nel mondo degli scacchi, scritta da Nino Russo e disegnata da Maria Luisa Luggetti, originariamente pubblicata sul Topolino numero 1850 del 1991. In questo caso, mentre la copertina ha una bellissima illustrazione a tema scacchistico realizzata da Paolo Mottura, e che potete ammirare anche alle mie spalle, visto che la sto utilizzando come sfondo di questo video, la storia vera però, Maria, non viene accreditata e si capisce qual è la sua origine semplicemente dal codice presente nella quadrupla presente nella prima pagina. La storia, che era uscita su un numero privo di redazionare a causa di uno sciopero dei giornalisti, è stata in questa occasione ristampata con diverse vignette tagliate via e una riduzione di la metà complessivamente delle pagine con cui uscì sul Topolino. In qualche modo è un vero peccato, in realtà di questi rimaneggiamenti ne ero accorto già nel corso della lettura, perché mancavano alcune vignette, inclusa una bellissima splash page, che in realtà rendevano la storia molto più appassionante e soprattutto anche dal punto di vista didattico molto più interessante di come non è risultata in questa versione ampiamente rimaneggiata. Tra l'altro per far rientrare in, tentare almeno di rientrare il senso logico delle varie porzioni con cui è stata tagliata, sono state anche modificate due o tre battute qua e là. Onestamente non l'ho trovata neanche una cosa molto ben fatta nel complesso e questo al di là di come ricordavo che fosse la storia. Un'altra parte del manuale che non viene accreditata è proprio il manuale stesso. Leggendo i vari capitoli si ha la netta sensazione che il manuale stesso sia stato scritto da uno scacchista ed effettivamente questa risulta la ristampa di un manuale edito proprio da Disney Italia, proprio dedicato agli scacchi e pubblicato nel 1997. Sto parlando del manuale di scacchi di Anatoly Karpov. E per la conferma di questa informazione che già in qualche modo avevo intuito non mi resta che ringraziare Andrea Granda con il quale abbiamo avuto una chiacchierata a tal proposito sotto i video di Alain. Karpov è stato uno dei più grandi scacchisti secondo soltanto come fama almeno relativamente all'epoca al grande Kasparov che in qualche modo è un vero peccato che non sia stato invece lui ad essere contattato per questo manuale all'epoca. Il motivo ve lo vado a spiegare subito e ed è molto probabilmente anche il motivo per cui il manuale non è stato accreditato. Karpov infatti in tempi non sospetti quindi precedenti all'attuale invasione dell'Ucraina da parte della Russia aveva espresso la sua vicinanza politica a Vladimir Putin. Quindi è più che comprensibile se l'editore ha deciso di non accreditare il testo del manuale per evitare qualunque polemica. Ad ogni buon conto il manuale essendo scritto da uno scacchista è ovviamente un ottimo manuale. Certo è un manuale di base, presenta fondamentalmente come i pezzi si muovono sulla scacchiera, come i pezzi catturano perché in questo caso i pezzi non mangiano la differenza di quanto avviene con la dama ma catturano gli avversari e come tutti insieme concorrono nell'obiettivo comune di dare scaccomatto al re avversario. Dove per scaccomatto si intende chiudere il re in una posizione in cui non può muoversi o per meglio dire qualunque mossa riesca a compiere si trova sulla sua strada un avversario pronto a catturarlo. Una delle splash page che è stata eliminata dalla storia di Russo Euggetti ci ricorda che la scacchiera è un po' come una specie di battaglia navale visto che ogni casa della scacchiera è identificata da una lettera e da un numero. In particolare le colonne della scacchiera vengono identificate delle lettere che vanno dalla A alla H a partire dalla colonna sinistra per arrivare fino alla colonna a destra. Le righe invece della scacchiera vengono identificate dei numeri che vanno da 1 a 8 a partire dalla riga in basso fino alla riga in alto. In questo caso definisco come basso le due righe dove vengono messi i pezzi bianchi mentre alto le due righe dove vengono messi i pezzi neri. Quindi data questa definizione noi possiamo definire qualunque casa della scacchiera con la lettera per esempio A e il numero per esempio 1 dove A1 il punto dove vado a mettere la prima delle due torri bianche. Infine la scacchiera va posta in maniera tale che la casella a destra di ciascuno dei due giocatori deve essere una casella di colore bianco. Già semplicemente raccontando come io prendo la scacchiera, come la suddivido, in che modo identifico ciascuna delle caselle della scacchiera, sto iniziando a dire che esiste un legame, un forte legame matematico tra gli scacchi e appunto la matematica. Non è semplicemente un legame di tipo logico ma anche geometrico perché comunque i pezzi si muovono all'interno dello spazio, ognuno secondo delle regole diverse. E di tutti i pezzi quello che si muove nella maniera più originale è indubbiamente il cavallo. Il cavallo fa il cosiddetto movimento delle due case verso destra o sinistra, tre case verso l'alto o il basso. Oppure tre case verso destra o sinistra, due case verso il basso oppure verso l'alto. Da un punto di vista più strettamente geometrico il cavallo si muove lungo una delle due diagonali di un rettangolo di base 2, altezza 3, o viceversa, base 3 e altezza 2. Avendo quindi questa visione qua del movimento del cavallo diventa più semplice provare a risolvere un problema molto matematico che molti matematici hanno provato appunto a risolvere, ovvero il cosiddetto giro del cavallo. Ad affrontare questa sfida alla scacchiera e al cavallo ci hanno pensato matematici come Pierre Raymond de Montmort nel 1708, Jean-Jacques d'Urtus de Meyran nel 1725, Abram de Moivre nel 1722 e finalmente ecco la soluzione grazie al matematico sinistro Leonard Euler nel 1759. Questa soluzione venne successivamente generalizzata da Theophil van der Mond nel 1771 e Peter Marc Roget nel 1849. La soluzione è fornita con uno schema in cui ogni casella, ogni casa degli schecchi è identificata da un numero. La casa di partenza in basso a sinistra è identificata col numero 1. Da lì il cavallo si andrà a spostare sulla casa numero 2, poi 3, 4 eccetera eccetera, fino ad arrivare alla casa numero 64. Da lì ci vorrà un'ultima mossa delle per giungere nuovamente sulla casa numero 1. Questo perché l'obiettivo di Euler era quello di trovare un percorso chiuso della scacchiera, cioè un percorso in cui il cavallo iniziasse in un punto e finisse alla fine nello stesso punto, ovviamente senza ripassare più di una volta su una casella. Un altro aspetto molto interessante del cammino del cavallo venne scoperto nel 1836. Da Teodoro Ciccolini che riuscì ad identificare alcune forme geometriche di base all'interno del cammino del cavallo, in particolare scoprì la forma della losanga, cioè il cammino del cavallo può essere rappresentato sovrapponendo varie losanghe una sull'altra. In questo modo il rea matematico italiano riuscì a suddividere in realtà il cammino in due pezzi, uno per la metà sinistra e uno per la metà destra. Inoltre scoprì che questi due cammini, queste due strutture apparentemente disgiunte, potevano essere messe insieme proprio da una mossa del cavallo. Sperando che queste curiosità matematiche sulla mossa del cavallo siano state interessanti, non mi resta intanto che anticiparvi sul canale cercherò di pubblicare un po' più di contenuti a tema scacchistico, unendo comunque alterrando robe un pochino più matematiche e con altre invece molto più centrate su partite storiche. Per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati e ovviamente darvi appuntamento al prossimo video che sia scacchistico o meno. Saluti a tutti!